Vi ricordo che ho cambiato la pagina web del sito www.tinelli.eu e di tenervi aggiornati attraverso il fornitissimo indice alfabetico con oltre 3000 voci, dove in prima battuta trovate gli ultimi video pubblicati sulle piattaforme libere alternative. Antartide, la vera distanza attorno al muro di ghiaccio. Veduta della grande barriera a sud da Viaggio nei mari del sud di Ross. Il muro di ghiaccio e la vera distanza attorno all'Antartide. Da Alex Grison, la Bibbia è dal cielo, la Terra è un globo. La spedizione inglese in Antartide La spedizione inglese in Antartide è stata intrapresa tra il 1839 e il 1843 principalmente con lo scopo di effettuare osservazioni magnetiche e determinare la posizione del polo sud magnetico. Due vecchie navi bombardiere, la Erebus e la Terror, furono allestite sotto il comando del capitano Sir James Ross e col capitano Crozier sul Terror. La rotta per la seconda stagione è iniziata dalla Tasmania a sud dell'Australia tra 42 e 45 gradi di latitudine sud nel novembre 1840. Le isole Oakland e Campbell furono visitate e ispezionate per la prima volta il giorno di Capodanno nel 1841. Il circolo polare antartico è stato attraversato a circa 72 gradi est. Pochi giorni dopo le due navi si sono incastrate nel ghiaccio ed hanno iniziato perseverando ad alesarlo per proseguire. Il 10 gennaio ci riuscirono e si liberarono dal ghiaccio a 70 gradi e 23 primi sud e il giorno seguente veniva citata una terra che sorgeva con alti picchi e ricoperta di neve perenne. Quel giorno Ross superò la latitudine più alta raggiunta da Cook nel 1773 a 71 gradi e 15 primi sud. Avvicinandosi alla terra c'era una visione chiara della catena di montagne con picchi che salivano a 3000 metri e i ghiacciai che riempivano le vallate intermedie si lanciavano nel mare. La terra si interponeva come un ostacolo insormontabile a qualsiasi tentativo di approccio. Il capitano Ross sbarcò con grande difficoltà a causa della forte marea del ghiaccio alla deriva su una piccola isola vicina alla riva chiamata Isola della Possessione a 71 gradi e 56 primi sud e 171 gradi e 7 primi est. Miriadi inconcepibili di pinguini coprivano la superficie ma non si vedeva alcuna vegetazione. La mattina dopo c'era una burrasca da sud che si moderò e il 18 gennaio stavano di nuovo navigando verso sud in un mare inesplorato. Non venne fatta menzione da nessuna parte dei giorni estremamente lunghi che corrispondono a latitudini coeguali del nord perché la loro necessariamente dovrebbe essere valida su una terra a globo. Il ventitresimo giorno si trovavano a 74 gradi e venti primi sud e quindi superarono la latitudine più meridionale raggiunta dal capitano Weld nel 1823. Navigando lungo la costa appena scoperta il capitano Ross sbarcò dopo molte difficoltà su un'isola che porta il nome di Sir John Franklin a 76 gradi e 8 primi sud. Pagina 328 La terra è un globo Capitolo 15 Il 27 giunsero in vista di una montagna alta a 3.780 metri sopra il livello del mare che si rivelò essere un vulcano attivo che emetteva fiamme e fumo in grande quantità. Fu chiamato Monte Erebus e un vulcano spento ad est alto 3.320 metri fu chiamato Monte Terror. Lungo la costa perdita d'occhio verso est c'era una scogliera di ghiaccio perpendicolare alta da 45 a 60 metri perfettamente livellata sopra e senza fessure o promontori sulla sua facciata verso il mare. Non si riusciva a vedere nulla sopra di essa tranne le vette di un'alta catena di montagne che si estendeva verso sud fino a 79 gradi sud. A questa catena montuosa fu dato il nome di Perry. Quindi il capitano Ross navigò lungo la meravigliosa parte di ghiaccio verso est a 77 gradi e 47 primi sud fino a 78 gradi sud. Si stima che questa barriera fosse spessa più di 300 metri ed è stata seguita per 800 chilometri senza interruzione. L'insegnatura della Grande Terra del Sud scoperta da Sir James Ross venne chiamata Terra Vittoria. Immaginate se una quantità di forza centripita che viene concentrata al centro di un globo o di una sfera è in grado di sostenere queste possenti mura di ghiaccio e montagne di materiale ghiacciato al loro posto. Non sono le dichiarazioni del profeta Job facilmente conciliabili con quanto detto prima? Hai tu considerato le distese sulla Terra? Dillo se sai tutto questo. Job 38-18 Le acque sono nascoste come una pietra le acque si induriscono come pietra e la superficie dell'arbizio si congela. Job 38-30 Job 26-10 ha tracciato un cerchio sulle acque sino al confine tra la luce e le tenebre. Nel novembre 1841 l'Aribos e il Terror segnarono nuovamente una rotta verso sud entrarono nella banchisa di ghiaccio il 18 dicembre estate ed attraversarono ancora una volta il circolo antartico il giorno di Capodanno. La navigazione attraverso la cintura di ghiaccio ampia a 1480 chilometri è stata estremamente pericolosa. Alla fine, il primo febbraio 1842 c'era un mare limpido e procedettero verso sud a 174 gradi e 31 primi verso ovest. Il 22 furono circondati da alti iceberg e a mezzanotte venne citata la grande barriera di ghiaccio e il suo esame ricominciò a 77 gradi e 49 primi sud. Il giorno seguente la spedizione raggiunse la latitudine di 78 gradi e 10 primi sud di gran lunga la più alta mai raggiunta prima o dopo. Una volta sfuggiti ai molti pericoli e navigando attraverso catene di enormi iceberg il Capitano Ross portò la sua nave verso nord e svernò alle isole Folkland. Terza spedizione Nel dicembre 1842 la spedizione salpò da Porte de Wies per la terza visita alla regione polare meridionale dove è stato visto il primo iceberg a 61 gradi sud. Il 28 la nave ha citato la terra che ha preso il nome dal principe Durville da Dumont Durville e la parte sud delle Shetland meridionali è stata esaminata. Nel mese di febbraio sono stati rilevati circa 290 km dalla massa del bordo. L'11 marzo il circolo antartico è stato riattraversato per l'ultima volta e la spedizione tornò in Inghilterra nel settembre 1843. Quindi dopo 4 anni di dirigente lavoro un viaggio condotto senza precedenti nelle regioni del polo regionale si concluse. Fra virgolette due isole chiamate Heard e MacDonald furono visitate anche in questo viaggio nel novembre 1853 dal Capitano Heard della nave americana Oriental. In febbraio furono spinti verso sud da una tempesta di vento e il primo iceberg fu scoperto il 12 a 60 gradi e 52 primi sud. Era alto più di 60 metri e lungo più di 200 metri. Il 19 la nave si trovava su una densa banchisa di ghiaccio a 63 gradi e 42 primi sud e il 4 marzo raggiunsero l'Australia. Furono effettuati diversi sondaggi sulla profondità. La profondità massima era di 1975 braccia corrispondenti a circa 4.800 metri. La rotta del Challenger era più o meno la stessa di quella di Pagoda nel 1845 e Pappio a Nord. Con lui termina la magra cronaca di viaggi attraverso e verso il circolo antartico. L'Enciclopedia Britannica volume 19 a pagina 330. Esplorazione Antartica Comprendiamo da statistiche autentiche che la spedizione del Challenger e i rapporti dei suoi equipaggi costarono alla nazione una somma stravagante di oltre un milione di dollari. Questo è il risultato necessario del quale il governo considera con cauta proposta riguardo a qualsiasi ulteriore progresso scientifico per qualsiasi spedizione simile e crediamo abbia espresso il suo scoraggiamento nei confronti della proposta della spedizione in Antartide in connessione con il governo australiano. Il Challenger non ha ammesso apertamente che aveva cercato il Polo Sud in vano. O no? Ma ha fatto tre volte il giro del mondo più di 111.000 km senza poter dire di aver avuto la fortuna di constatare l'esistenza di una località così meravigliosa? Ovviamente potrebbe aver continuato a cercare finché i suoi legnami e le sue placature fossero rimaste insieme e la stessa delusione deve aver accompagnato i suoi sforzi? Qui mi sorge un pensiero o due che posso suggerire al lettore. Se la Terra fosse un globo o uno sferoide all'interno del circolo polare antartico i gradi di longitudine potrebbero non superare i 50 km per grado ma se permettiamo loro i 50 km per avversità dei venti correnti ghiaccio eccetera e moltiplichiamo per 360 gradi per 60 avremo 40.000 per fare un giro di 20.000 rivendicato da tutti i credenti del globo ma possiamo permetterci di essere più liberali chiameremo il moltiplicatore 120 e il prodotto in km raggiungerà solo 80.000 km poco più di due terzi del loro record autico come detto e molti di questi nella parte interna del circolo polare antartico ma dopo una crociera tortuosa come il record il cui abbiamo detto è una spesa infruttuosa di oltre un milione di dollari sembra del tutto naturale che si sentono un po' demoralizzati per le loro precedenti insistenze con il governo anche se la documentazione non dice che stavano cercando un polo sud ma un polo magnetico certo e dove si aspettavano di trovarlo se hanno trovato qualcosa del genere e come si aspettavano di chiamarlo una volta trovato un suggerimento qui non farà alcun danno a nessun bene non facciamo pagare nulla per il nostro consiglio quando non viene seguito la spedizione avrebbe potuto fare semplicemente un fallimento altrettanto grande ma con meno soldi due o trecentomila dollari spesi nell'inviare una spedizione a sud ovest di Melbourne ed una seconda a sud est si finirebbe ad una distanza di 185.000 km o giù di lì la stessa cosa di un topo in un barile e si ritroverebbero comunque lontanissimi dal loro polo magnetico come il nord sta a sud e l'est sta all'ovest o il regno dei cieli sta alla terra ma con le parole di un altro potremmo dire che cercare il polo sud alla fine del XIX secolo solo perché alcuni astrologi pagani concepirono l'idea di un pianeta terra circa 2000 anni fa si è scoperto che gli uomini ancora fingono di accettare questa blasfemia pagana che è una presunzione estrema le barriere di ghiaccio che costituiscono la circonferenza della terra si estendono per circa 55.559.000 km ma non presentano aperture abbastanza larghe per il passaggio di una fuoca o di un tricheco non vi è alternanza di giornate lunghe come nella regione artica ma i mesi di maggio giugno e luglio hanno delle notti lunghe e tristi la neve non si scioglie mai e lo schianto degli iceberg che cadono sconvolgono i cuori dei più coraggiosi comunque a meno che qualsiasi spedizione in queste regioni venisse condotta con particolare cautela e intelligenza finirebbe molto presto con disagio e sgomento per tutti gli interessati e se si tentasse qualcosa oltre all'indagine del se esiste un passaggio a sud-est o sud-ovest non ne potrebbe derivare un altro risultato se non perdita e discredito per il promotore e la crudele sofferenza delle parti impegnate a sud-est o d'lass o Grazie a tutti.